Siamo nella zona della Siligata, nel punto in cui è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria, una zona dove sono notevoli i rischi per la sicurezza, c'è alta velocità, c'è uno svincolo non così semplice da percorrere e la rotatoria serve proprio ad aumentare la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada che circolano in questa zona. Il problema riguarda il fatto che questo progetto non sta facendo notevoli passi in avanti, c'è stato un progetto preliminare già pronto, c'è la disponibilità dell'ANAS a finanziare con una quota di 900 mila euro l'intervento, anche un piccolo cofinanziamento del Comune nell'ordine di circa 100 mila euro, ma ora si attende il progetto esecutivo e poi le fasi successive. Nell'ultimo incontro il Ministro del Rio non ha affrontato questo tema, nonostante alla vigilia fosse stato inserito nel dossier da parte del Comune. Vedremo quanto tempo ci vorrà per il prossimo step legato a questa rotatoria.